Ciao a tutti! Oggi prepareremo la granita al cioccolato. Il tempo di preparazione della ricetta è di circa 5 minuti. Gli ingredienti sono cacava amaro in polvere, zucchero, latte, cannella, vanillina e ghiaccio. I quantitativi degli ingredienti li troverete sul nostro blog all'indirizzo videoricettebimbi.blogspot.it. Andiamo in via alla ricetta. Mettiamo nel boccale prima lo zucchero insieme alla cannella e polverizziamo il tutto per 10 secondi a velocità 10. Prendiamo sul fondo lo zucchero. Adesso aggiungiamo il latte, la vanillina ed il cacao. e lavoriamo in tutto per 3 minuti, 37 gradi, velocità 4. Adesso aggiungiamo il ghiaccio. E facciamo lavorare i bimbi per 40 secondi a velocità 7, spadolando. Bene, la nostra granita è quasi pronta. Adesso andremo a riporre in un contenitore e la posizioneremo in freezer per almeno un quarto d'ora. Granita al cioccolato. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie a tutti.